Ciao ragazze, oggi sono tornata con un video inaspettato inaspettato perché non pensavo di registrare i prodotti finiti in quanto pensavo di metterli i primi di agosto facendo i prodotti finiti di luglio ma mentre mettevo a posto diciamo qualcosina di finito mi sono accorta che erano parecchie cosette ho detto magari lo faccio adesso a metà luglio poi lo rifaccio i primi di agosto così evito di assillarvi con un video di mezz'ora e inizio subito, come al solito sono di più i prodotti per capelli non si sa perché noi li finiamo da morire e sono tre prodotti, tutti e tre ultra dolce ormai sapete il mio amore è sfrenato e inizio subito con questo qui ultra dolce all'albicocca e fiori di cotone è adatto per bambini perché diciamo non brucia gli occhi ma in famiglia lo utilizziamo soprattutto per... lo utilizzano anzi per i lavaggi molto frequenti in quanto è molto delicato e niente, ha un buonissimo profumo e nulla di particolare in quanto a nutrizione e cose varie comunque altro shampoo che mi è piaciuto molto, questo l'ho utilizzato io è l'ultra dolce alle 5 piante infusione di vitalità per capelli normali e mi è piaciuto moltissimo l'odore è proprio di erbe era freschissimo e l'ho trovato molto adatto anche ai miei capellinisti perché ho notato che mi li rendeva puliti più a lungo e andavo anche un pochino a seccarli e per questo andavo utilizzato un buon balsamo ma comunque è un buono shampoo e sono curiosa di utilizzarlo in combo con il suo balsamo e magari proverò e vi farò sapere e balsamo finito sempre ultra dolce di questa fantastica linea tesori di miele e per capelli fragili che si spezzano è secondo me una delle linee migliori dell'ultra dolce insieme a quella alla lavanda che adoro ma questo effettivamente è molto più nutriente il balsamo districa davvero bene i capelli e contando io poi c'è l'orricci tendente al crespo sono sempre impicciatissimi ed è davvero un buon balsamo che se non l'avete provato vi consiglio di provare questi prodotti dell'ultra dolce in offerta si trovano intorno a 1,30-1,50 euro poi un prodotto abbiamo finito questo bagno schiuma un po' deforme di bottega verde e ai fiori di ciliegio sono 400 ml e l'avevamo pagato intorno a 1,50 euro sempre mi sembra era viola era buonissimo l'odore proprio floreale fresco mi piaceva tantissimo e niente da dire guardo anche qui a idratazione perché è un semplicissimo bagnotoccia finalmente ho terminato anzi mamma ha terminato lo struccante occhi idratante delicato della Vivere de Cop ora con lui è stato un amore-odio perché per il primo un mese e mezzo che l'ho comprato mi è piaciuto tantissimo struccava abbastanza bene e era veramente delicato non mi bruciava gli occhi era perfetto poi c'era stato l'arrivo dell'allergia i miei occhi più sensibili ma non l'ho più potuto utilizzare tant'è che appunto l'ha finito mia madre perché mi bruciava da morire gli occhi e mi li rendeva rossi da morire gonfi quindi non so se sia stato solo perché i miei occhi erano più sensibili o se si erano proprio sensibilizzati a questo tipo di struccante non lo so però diciamo che mi dispiace perché effettivamente era un buon struccante con un inci verde e un prezzo veramente buono perché se non sbaglio va intorno ai 3 euro fatemi sapere se voi l'avete provato e magari avete avuto il mio stesso problema o no altro prodotto diciamo da struccaggio finito sono queste salviettine Wicon che non mi sono piaciute per nulla sono salviettine con tessuto bifase in teoria devono struccare anche il waterproof no struccavano abbastanza bene sarà che io non le uso mai le uso solo se sono in viaggio quindi non posso per agonare lo struccaggio con delle salviettine a quello fatto da me con latte detergente e detergente viso struccante occhi è normale tant'è che però l'ho finita in un altro modo cioè l'ho finita per ritocchi di trucco per pulire le mani mentre mi truccavo cose così perché bruciavano da morire anche questo agli occhi ed è una cosa che non sopporto assolutamente l'avevo presa in offerta intorno ai 2 euro se mi sembra e insomma non le ricomprerò assolutamente poi ho terminato questa crema mani dell'erbolario è una crema per le mani al limone e non è consigliata a chi non adora l'odore di limone perché cioè sembra un limone in mano praticamente perché ha un odore allucinante a me piace tantissimo mi ricorda tipo quando faccio i dolci e con il limone mi profumano le mani tra l'altro è veramente veramente idratante e poi sarà che a me i prodotti erbolari mi piacciono molto e niente l'abbiamo finito ce l'avevamo ormai da un paio d'anni ve la straconsiglio non so nemmeno se c'è più sinceramente due prodotti di make up uno è questo pigmento dell'Avon color trend era un azzurrino bubbly blue premetto che non vado matta per i cosmetici Avon ho comprato qualcosina con il tempo ma niente mi è mai soddisfatto e quindi ho smesso ce n'è ancora un pochino dentro vi faccio vedere il colore è questo azzurro luminosissimo molto glitterato diciamo un trucco veloce luminoso a me piace molto infatti l'ho finito e per finire un pigmento ce ne vuole ma insomma non penso assolutamente di acquistarlo l'avevo pagato se non sbaglio intorno 4-5 euro non vorrei dire cavolate altro prodotto finito che finiamo praticamente ogni due mesi più o meno è la long lasting i pencil di essence questa è la colorazione 01 black fever che ovviamente non si vede e niente io adoro queste matite come vedete non va proprio più sulla mina è nerissima ha un'ottima durata la mina automatica io adoro e viene circa 1,90 euro quindi è davvero economica ed è secondo me tra le migliori matite nere proprio tra le migliori matite e poi nera in circolazione low cost quindi ve la straconsiglio io già ne ho un'altra di scorta perché ho tipo l'ansia di rimanere senza e non trovarle niente i prodotti sono finiti così ho cercato insomma di non fare un video chilometrico spero di finire qualche altra cosina così ci rivediamo con questo video ad agosto al prossimo video ciao ragazze ciao 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 Grazie a tutti